Se volete acquistare crediti passate da FIFA coinzone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete il 3% di sconto, troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli e brutti iscritti, più di tutti, bentornati su Giocai Gatti Spò Io sono Giovi Spò e questa è ormai l'immancabile serie scontro tra titani stagioni 2 Episodio numero 9, mi sa, 9, 10, si Episodio numero 9 Ci saranno quest'episodio e il prossimo che sarà la finale Quindi rimanete qui che sfiderò l'amato, l'amato, il voluto bene FIFA coinvolto in Italia per la finale Nello scorso episodio vi ho chiesto di scegliere tra due cdc entrambi Argento ed erano Carlstrom e Amedov Se non mi sbaglio il suo nome avete scelto Carlstrom E' un cdc strano per essere un cdc Ha 78 di tiro e 82 di passaggio che è buono, però la difesa e testa non mi piacciono particolarmente Solo 74 di ribida, 66 di velocità Vabbè, ora andiamo a sfidare l'avversario casuale Ecco la squadra del nostro avversario è un'ibrida Abbiamo o pare il terzino destro L'unico difensore centrale che conosco è De Maio del Genoa Genoa sì Poi abbiamo il C.O.C. che dovrebbe essere Michael Oswell Ehm... Il C.C. brasiliano dell'utile non so chi sia Vabbè E' una bella argentona E speriamo di vincere la cazzo Bobina Entra in aria Il cross per la testa Ma Michael non ci arriva Arriva a crescita dall'altra parte Cercherà anche il cross per la testa di Rondon Che ci arriva Ma niente, il portiere c'è Questa volta c'è stato il portiere Kozlov Kozlov entra in aria La passa in mezzo per Kozlov Il pallonetto di Kozlov Markovic Attenzione che si potrebbe accentrare Chiudete Bravo Akinfer Vai Akinfer Mamma mia Bella quella parata di Akinfer Vai Rondon Tira Rondon La parata del portiere Vai Akinfer No, no, no Questo gol No Che merda Di persona Porca troia Per una volta Che Akinfer Stava facendo delle ottime parate Arriva il coglione di turno Che fa il gol della merda Ma io non ci credo Sembra come se si deve giocare una partita di coppa Che sta alla finale Che devi fare per forza il gol Ma io non lo so Mamma mia Io non ci credo Che questa partita Un solo gol subito Un gol di merda Ma io non lo so Un amichevole Ma io a fare i gol da la merda Cioè io posso capire Se tutto è giocato il campionato Ti servono Per forza i punti Ma va bene Non dico più niente E ora vediamo un po' la valutazione Di Akinfer Spero almeno che non sia stato il migliore in campo A me Meno male Anzi Il portiere avversario è stato il migliore in campo Il portiere avversario Roba da matti Vuoi che il tuo portiere sia il migliore in campo? No Questo gioco Fa sì che il portiere avversario sia il migliore in campo Ma vaffanculo Allora Potrete scegliere tra Digibril Sisse Oppure Alexander Kokorin Entrambi buoni Secondo me Quindi Scegliete voi Ci fate la scelta tra uno e tra questi due E commentate qui sotto Naturalmente Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel pollice all'insù Iscrivetevi al canale Se siete già iscritti Qui è Giovispo Vi saluto e vi ringrazia E ci vediamo alla prossima Con un nuovo video Ciao e Bella a tutti